Chi varcava con il marciapiede in qualche modo faceva una scelta, che entrava in uno spazio dedicato alla cultura della legalità. Adesso è un fermento. Io dico che non voleva entrare nessuno, è entrato il capo del governo, cioè è entrato il paese, è entrato lo Stato, è entrato la nazione, quindi penso che siamo veramente straordinariamente felici di questo e abbiamo la speranza adesso, lavorando tutti insieme, come ci ricordava la sua eccellenza, perché adesso tutta la nostra scommessa deve essere nel durare. Tutto questo possa continuare a dare forza, convinzione e credibilità. La cosa peggiore sarebbe tornare indietro, rifluire e disperdere questa cosa che accaduto è questa esperienza.